Punto 3 è una società di Ferrara che si occupa di progetti per lo sviluppo sostenibile e marketing territoriale di area ad alto valore ambientale. Abbiamo accettato con piacere di far parte del progetto SHIP al Chain perché crediamo fortemente che la relazione tra produzioni agroalimentari e territorio possano essere un elemento vincente anche in strategie di marketing territoriale e di turismo sostenibile. Il nostro rapporto nel progetto è appunto questo, da un lato occuparci della comunicazione istituzionale del progetto per difondere dei risultati a tutti i target interessati sia sul territorio che in ambito della comunità scientifica internazionale. Dall'altro è proprio cercare di costruire assieme agli allevatori e alle associazioni di allevatori e agli enti locali dell'Alpago e di Lamon una strategia che faccia sì che i turisti che già frequentano questi territori scoprano quali sono i valori che sono connessi all'allevamento di queste pecore autotone non solo in termini di qualità e le gastronomiche ma soprattutto in termini proprio di modalità di gestione e allevamento degli animali. Grazie a tutti.